Ciao, sono Paola Orlandini, sono al mio secondo anno di residency, faccio il percorso di residency in dermatologia presso la clinica veterinaria San Marco. Durante le ore lavorative eseguo visite dermatologiche, spesso anche di casi complessi che vengono riferiti dalle cliniche esterne e quindi è sempre una sfida ma anche un'attività molto stimolante perché anche grazie alle metodiche diagnostiche di laboratorio avanzate si riesce a fare diagnosi e poi a seguire anche i pazienti nei controlli successivi per avere una visione a 360 gradi. Il punto di forza del mio lavoro è sicuramente la squadra, faccio parte di un team di colleghe tra cui c'è anche la mia mentore ed è un continuo confronto sia sui casi clinici che sulle evidenze scientifiche per cui non si smette mai ogni giorno di imparare. Settimanalmente facciamo dei journal club durante i quali discutiamo sugli ultimi articoli in merito alla dermatologia veterinaria e poi facciamo anche degli incontri con i colleghi di laboratorio che si occupano di istopatologia, in particolare di istopatologia cutanea che è un esame complementare fondamentale per la nostra attività clinica. Quindi abbiamo anche l'opportunità di confrontarci con i colleghi del laboratorio e discutere sui casi visti. Insieme alle mie colleghe riusciamo a raccogliere moltissimi dati e nuove idee per ricerche e progetti che poi possiamo presentare ai congressi interni o ai congressi esterni. Quindi è sempre un percorso molto stimolante anche da questo punto di vista. Per concludere penso che fare il percorso di residency in San Marco sia un'occasione unica che porta a una crescita professionale e personale molto importante.